Ma bella ragazza e schiaia sono Drafiu ed eccoci qua in un nuovo video di Brawl Stars sto tirando dei pugni incredibili al letto probabilmente domani faccio fatica a dormire intanto sentiamo delle voci molto strane presentatevi un po' signori Io sono Bianca Lee, bella raga sono Alessandro e oggi siamo qua per provare glitch di Beryl su Brawl Stars Sbandiamo alle ciance e iniziamo subito anche perché però ho fatto un fail clamoroso non vi ho tolto il volume del gioco e quindi si sentirà uno schifo e quindi io vi voglio bene per voi lo faccio speriamo di non spawnare da ecco siamo dall'alto barco della mappa quindi non riusci a morire carcarci le ulti tu stai fermo dove sei che vengo a cercare ma c'è la tempesta sì speriamo di non morire subito ragazzi sinceramente non ho pensato a queste cose sarò stupido eh vi farò un po' più l'alto giusto no dai oh oh dove sei dove sei stai famo dove ma dai era dall'altra parte della mappa io posso andare da neanche molti guardate raga cosa succede boom wow hai visto? ma incredibile ragazzi io sono morto pure io ah io non ho mai più città tretta di vita adesso proviamo il secondo grigio aspettate un attimo ragazzi io secondo me è da rifare sta cosa rimetti pronto perché pensavo andassi in un'altra maniera devi togliere la tempesta però speriamo di non spawnare speriamo di spawnare tutto ecco tu dove sei? sei lì? dall'altra parte vai giù ale non è possibile vengo in giù ale che ci vuole ok grazie perfetto muoviti Beryl cammina ma qua sono spostato io sono un ciccione ho 20 kg di car e io ho Beryl B-A-R-A-B-K-A-R probabilmente in sta cassa c'è ci sono nove schifo perché pesa come un accidente ah eccoti guarda un po 3 2 1 vai anche qua ragazzi avete visto che ragazzi veramente bellissimo bellissimo per scappare fatelo ma senza tempesta se vuoi farlo con gli amici può scappare e lo volete fare un po' più stretto magari si raga magari senza tempesta sarebbe la cosa ideale ma dato che sono per giocare con gli amici non ho pensato a questa cosa e quindi io riusciamo signori e mi deve invitare con questa persona ok ecco con grazie è da troppo che non tiro pugni a letto e quindi ah raga io vi ricordo di lasciare like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei video eh già e iniziamo questo glitch è sempre con Beryl ed è simile a quelle è una mappa creata da me dall'aiutante non è mappato ricariciamo un pallone pesimo non è mappato di pelino oddio ci sto ammazzando amico aspetta guardate 3 2 1 vai guardate ragazzi e torna indietro in una maniera incredibile ma il bello è che se tu lo fai a metà se tu lo fai con la ulti che non arriva perfettamente alla fine guardate cosa è arrivata a metà come nell'altra mappa infatti ragazzi è veramente una figata assurda assurda vabbè adesso che bella cosa è una figata no ma no questa è family friendly infatti infatti è una bellissima non ho detto nessuna parola raga non era una parolaccia vero no vi voglio bene a tutti vinto a rendere e non bannatemi vi voglio bene dai non uccidermi che facciamo l'ultima mappa ragazzi bene ragazzi finalmente abbiamo finito questo parco è family friendly il parco non ti puoi male uccidermi raga e torna andrea guarda com'è rimasto bene raga abbiamo anche una palla che si rotola in mezzo al lago e concludiamo con questa fine molto contenutistica adesso dobbiamo riuscire ti devo invitare io ok esco anch'io invita bene raga togliamo tutti i bot che schifo i bot che schifo buttateli via sempre il cestino fanno schifo i bot no perché se no non si riuscirà no vi voglio bene bot anch'io filmo i love bot ecco ma perché li devo ritogliere adesso come ho fatto a mettere i sandy raga ci sono dei problemi tecnici probabilmente ci sono magari ci sono i fantasmi nel mio account e ho fatto anche il bot grazie grazie andate sul canale no è inviciato quello sbagliato è inviciato ricordate sempre di andare sul canale di grax anche attento al bot via raga via 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 no entra il bot questa è una mappa piena di teschi e vedrete adesso cosa succederà mi devi spoilerare ho fatto costruire sempre da me ma l'ho costruita io eh si però te l'ho detto io come a costruire speriamo di sparare insieme noi siamo spawnati insieme perfetto adesso dobbiamo ricaricarci la ulti non sparare a niente non è proprio la ulti il la bellezza ma il gadget oddio guardate che cosa succede veramente bellissimo guarda qua io cioè non avrei mai immaginato che il gadget di Barry potesse essere così lungo e mi sono incontrati ciao ciao la ulti è una scena vediamo la ulti no devi provare la ulti no vabbè è contenutisticissima prova la ulti oh raga raga mi passo per veloce no ale vieni vieni da me questa è la mappa no ale vieni vieni qua arrivo arrivo guarda quanto sono andato lontano mamma mia bellissimo sono anche tornato a Andrea mamma mamma ma Tami buu ragazzi è bellissimo oddio il tanto avete visto il lag potete lasciare finire la mia mappa raga ha laggato avete visto quanto lag una volta che mi scoglie la mappa ha veramente laggato è davvero incredibile da laggata più grande della vita come come quindi ragazzi io direi che per questo video è tutto spero di esservi stato d'aiuto no in realtà non ho fatto qualcosa di inutile se volete fare questo tema con gli amici fatele e trollatele un pochino magari si sono molto facili da fare giusto fatele come si vede bene come abbiamo fatto noi e bene raga io direi di concludere con questo video bella raga scu scu e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti